Due giri ancora dalla conclusione, una volta che passerai il traguardo saranno ancora 16 le curve da compiere, 7 le frenate da compiere per Valentino Rossi, in questo momento ha dato un'altra cosa, non abbiamo visto doppiati quest'anno, adesso nel mirino di Rossi ci sono e diventa un meno 1, ultimo giro a Misano, ultimo giro a Misano con Valentino Rossi davanti, la curva 1, la curva 2, la prima S. E adesso la variante del barco, adesso entriamo a Dario, il pubblico che si alza in piedi, lo smetto di lui, ancora colpito su stesso nelle parti e le gianne, fuori il numero 46, la 5 e la 6, a questo punto, per Valentino Rossi, Valentino Rossi partito dalla prima fila, il silenzio quasi irreale in questo momento di Misano, la voce dell'AN1 di Valentino Rossi, adesso il pubblico saluta, il pubblico sta iniziando a crederci, a crederci, il pubblico di casa, il pubblico di Misano, dopo Assen l'anno scorso, sono passati 18 anni e 27 giorni, dal 18 agosto 1996, dalla prima vittoria, dalla prima vittoria, nel moto mondiale di Valentino Rossi, eravamo a Perno, e questo che si sa prossima, si appresta a diventare il pilota con la striscia più lunga di sempre, battendo proprio la risca di Rossi, 18 anni e 27 giorni, tira sull'alterniore, buona Martino Rossi, la Argentina, ha avvisito, ha avvisito, a me, prova, bravo.